Abbiamo delle destinazioni di riferimento ormai da tanti anni, divise su tre macro aree che sono il Nord America, il Centro Sud America e il Medio Oriente. Cerchiamo di dare alle agenzie di viaggio il massimo supporto e la consulenza necessaria affinché possano vendere queste destinazioni che apparentemente potrebbero sembrare di nicchia. Cerchiamo di dare tutto il supporto alle agenzie di viaggio. Puntiamo su una clientela assolutamente leisure e su una clientela anche di meglio ed alto livello, che sia adatta, che sia non più il semplice turista ma un viaggiatore, un curioso conoscitore di alcune destinazioni importanti. Quali sono per esempio il Peru, il Nord America, il Canada, che è una destinazione molto particolare, adatta a un cliente ecologista da un punto di vista di mentalità. Il Peru, la Giordania, la Siria, ultima destinazione è il nostro bagaglio, che si sta sviluppando molto bene, si sta incrementando con dei numeri interessanti, rivolta a un pubblico esperto, più o meno curioso di conoscere quello che sono gli antichi splendori della cultura medio orientale. Ci occupiamo di far conoscere un po' a tutte le agenzie del territorio italiano le nostre destinazioni. Non inventiamo nulla di nuovo o di particolare, ma la nostra voglia è la nostra voglia di far conoscere o di conoscere in modo diverso le destinazioni che presentiamo. Cerchiamo di passarle a chi poi deve comunque farle conoscere al cliente finale.